Ehi, quello mi serve per vivere! Qualcuno credeci del cibo? Fanny! Dobbiamo vivere con questa riserva per molto tempo, perciò basta così fino a domani! Ma io ho alcune fami! Oddio! Chi ha dato l'eredine alla duchessa del cacchio? Nessuno, ma se vogliamo sopravvivere occorrono ordine e regole, che cosa abbiamo imparato nel club onus? Basta così, Martin! Chi vuole la sua razione? Io, io! Ho fame! Ho talmente tanto fame che potrei vomitare! Che fine ha fatto tutta la roba? Buongiorno, è ora di mangiare? Pare che tu l'abbia già fatto! Ma di che cosa stai parlando? Ti sei pappato tutto! Grazie mille, Milaus! Ora moriremo tutte di fame per colpa tua! Giuro di non essere stato io! Patatino e formaggio, pestiamolo! Non oserai picchiarmi! Non puoi farlo perché io porto gli occhiali! Fregato! Ora che hai tutto quello che ti serve, mi tolgo dai piedi subito e vado via! Dove credi di andare, due occhi? Coraggio, squartiamole, riprendiamoci il nostro cibo! Un momento, non siamo dei selvaggi! Viviamo in una società fatta di leggi! Milaus ha diritto a un regolare processo! Ah, ma non è tutto! La società fa schifo! Scusate, ex amici, questa gabbia è proprio necessaria! Vietato parlare nella gabbia! La corte ha riunita! In piedi! Ah ah, vi ho fatto alzare! Vostro onore, la difesa chiama il suo primo ed unico testimone, Milaus! Milaus, lo hai rubato tu il cibo? Non io, non io! Potrebbe essere stato qualcun altro? Beh, potresti essere stata tu! Milaus, ti sto difendendo! Ah, scusami, dicevo solo che o sei stata tu o il mostro! Mostro! Per favore! Vi ricordo che non siamo qui per discutere sull'esistenza dei mostri! Che fai! La difesa, un'ultima domanda! Qualcuno di voi ha visto Milaus mangiare quel cibo per cazzo? Ha concluso! Pubblica cosa ha i suoi testimoni! Buggello, sei stata dura, corta balla e mecca di questo! Obiezione, Andy, lo sto ponendo! Nessuna domanda! Obiezione era spinta! L'accusa ha concluso!